Giovedì, quasi gaming, Mefiondu è un campionato che piano piano, zitto zitto, senza farsi notare, ci si è ribaltato completamente fra le mani. Stavo notando che è dalla terza giornata che noi non siamo sotto in classifica, perché qui eravamo 3-0, poi loro vinsero la terza giornata, presero 6 punti e quindi andarono 6-3. Da quel momento le sfilzate di vittorie che non finiscono mai, siamo sempre stati avanti e ora sono passati in vantaggio loro. Comunque, prima di cominciare, al solito, stiamo pian piano raggiungendo il nostro obiettivo, a quota 20.000 iscritti del canale, questo file, le estrazioni, annessi e connessi, saranno resi disponibili al download gratuitamente per tutti. Quindi mi raccomando, se potete, spargete parola. Detto questo, ci eravamo lasciati con un ballottaggio che voi avete votato e risolto in questo modo. Kobe White resta in squadra al 58% delle preferenze contro Goran Dragic, 42%. Ora, prima di iniziare, io vi faccio vedere un attimo quello che ho pensato per quel che riguarda le rotazioni. Mi sono letto tutti i vostri commenti, avete fatto un sacco di ragionamenti anche giusti, io ho cercato di prendere il meglio da ciascuno di voi e alla fine se n'è uscita questa cosa qua. Partirei con gli esclusi, i tre giocatori che non fanno parte della rotazione per questa partita. Voi sapete che io voglio giocare con 10 giocatori a botta. I tre giocatori esclusi sono anche tre giocatori eccellenti, perché parliamo di Marga Sol, addirittura un silver, RJ Barrett, miglior realizzatore del campionato, e Danny Schroeder, l'anguillone nostro. Perché ho preso queste decisioni? Per quel che riguarda Schroeder è un fattore fisico, è un 6-1, va sotto con Westbrook su tutti i possessi, e soprattutto sul finale Westbrook gli passa proprio sopra, non lo vede neanche. Quindi partiamo con Kobe White da singolo playmaker, che poi tanto ci sono questi tre giocatori che possono dargli una mano in qualsiasi momento. Per quel che riguarda invece RJ Barrett, il motivo è che non difende. Io in un perimetro così composto mi posso permettere un giocatore al massimo che non difende, e dovendo scegliere quindi di portarmene uno tra lui e Devin Booker, prendo Booker perché il talento offensivo è nettamente superiore. Invece per Gasol il fatto è che non gli sta dietro a Carl Anthony Towns, in termini di velocità, in termini di atletismo, non ce la fa. Io ho bisogno di vedere che cosa mi possono dare altri giocatori, tipo Mirotic, tipo Jackson, riprovare Jalen Brown, perché ragazzi questo deve giocare meglio di come ha giocato fino ad ora, e quindi per questa gara bisogna fare questo tipo di esclusioni. Il quintetto lo vedete in verde, bicchierone, titolare, giocatore col maggior numero di minuti, perché secondo me è l'unico che può provare minimamente a impensierire, Carl Anthony Towns, Mephiondu, al solito, Josh Jackson, io me lo lancio subito titolare, perché loro non se l'aspettano, non ce l'aspettiamo manco noi, non si sa che tipo di giocatore può essere, e vediamo che ci può dare, Jalen Brown, fiducia e Kobe White. Dalla panchina partirà Bim Bum Bam a cambiare il bicchierone, Mirotic, perché secondo me ci allarga un po' in campo, ci porta fuori un po' di questi lungagnoni da dentro l'area, Bojan Bogdanovic, il suo ha più da tre punti, Devin Booker, perché la partita migliore che ha giocato l'ha giocata proprio in uscita dalla panchina, e Danny Green. Questo è quanto, lo so, è un rischio, ci stiamo prendendo delle decisioni che possono sembrare assurde, però è un tentativo che vale la pena fare. Tanto ragazzi, persa per persa, almeno le abbiamo provate tutte. Basta, si gioca. Chicago, Illinois, ragazzi, siamo reduci da tre sconfitte consecutive, non è mai successo nella storia del quasi gaming, però è così, loro sono forti per davvero, c'è questo e quell'altro che sinceramente al momento non riusciamo a tenere, Anthony Towns e Russell Westbrook, e purtroppo c'è anche da dire che ultimamente manco le estrazioni ci sorridono, perché gli ultimi giocatori che abbiamo pescato, insomma, sì, qualche cosina ci hanno portato, ma niente di particolare. Però, giochiamo in casa, abbiamo un quintetto inedito e delle rotazioni apparentemente allucinanti, speriamo che quantomeno ci possano far giocare la carta dell'effetto sorpresa. Badalo lì, il bicchierone con la fascia come è fogato, si va. Vai, eh, Gelen, questa deve essere la partita della redenzione per te, mi raccomando, c'hai un mismatch, devi fa' qualcosa, ti devi inventare un tiro da tre, niente. Ora c'è Meffiondu accoppiato contro Westbrook, Westbrook lo vorrà attaccare, ma non lo sa che quello è Meffiondu, lo porta sul bicchierone, l'ha cancellato il bicchierone, forza ragazzi! Vedi, vedi che fisicamente Kobe White, quantomeno gli dà noia, poi si sbaglia allo sbagliabile, ma va bene uguale. Gioca due, White, Meffiondu, ancora White che si butta dentro, però White qualche volta canestro lo devi fare, perché se no è un problema. Ci abbiamo un mismatch, ci abbiamo un mismatch, questo però è difficile, eh, buono così, però a rimbalzo. Ragazzi è arrivato qua Gelen Brown, attenzione, pareva Meffiondu, io ero già pronto, ma secondo me è stato Gelen Brown. E questi sono falli a Kauhenas, glieli fischiavi però, eh, a noi no. Bicchierone, no, no, ci hanno fischiato una roba pazzesca ragazzi, questa era una stoppata clamorosa, gli regalano due tiri liberi. Questa è una gran palla di Gelen Brown per Josh Jackson, forza! Chiello lì, chiello lì, occhio che si butta indietro, occhio, bravo Bicchierone! Forza, Gelen Brown, dai che è la tua, ma perché? Sempre, eh, questa è una sentenza. Vedi, a Bucchier proprio gli garba fare il sesto uomo di lusso. Ma da Bogdanovic, è tremendo, il vendicatore! Bravo, Bogdanovic! Che giocatore! E ora, oggi ha deciso che la vince Jason Tatum, ragazzi, ha fatto niente, eh, fino ad ora, invisibile in tutta la stagione, oggi... C'ha un po' l'handling pauroso, poi si fa stoppare, ma arriva Bim Bum Bam! Segna e subisce il fallo di Wendell Carter Jr. Vedi che dalla panchina sono entrati questi nuovi, che ci danno un po' di verve, ci danno un po' di energia. Sicuramente si straperde, eh, però io me la vedo un pochino più tosta una squadra organizzata così. Eh, ci vuole un aiuto, ci vuole un aiuto, perché questo lo guarda! E' arrivato Bim Bum Bam! Ancora Devin Booker che gliela tocca, recuperiamo un altro pallone, vediamo se Green ce la fa ad andare in fondo, l'ha presa, ma c'è ancora Bim Bum Bam, che sta giocando con me a nosiche. Ah, volevo anche vedere, ragazzi, 11 pari, contro tutto e contro tutti, di cuore e di coraggio. Ora, io sarei curioso di sentire cosa c'è da dire Devin Booker sulle qualità nascoste del compagno Josh Jackson. Eh, infatti, niente. Eh, Bogdanovic, sei rimasto, sei proprio abboccato come un pesce, eh? Cerca una roba incredibile Danny Green, fortuna che c'è Bogdanovic che ne piglia uno ancora più difficile, però, e quindi... Ecco, ci mancava altro che questo. Ci sarebbe Devin Booker nell'angolo da tre! Forza, ragazzi! Meno due e li costringiamo al timeout. Sì, ma non è vero, ragazzi, ma non è mica Stephen Curry, eh? Eh, purtroppo si stava giocando bene, poi sono arrivati questi due, hanno messo una tripla e un fadeaway da 15 metri e... Bravo, Jalen Brown! Forza, io c'ho fiducia ancora! Batte in velocità! Devin Booker, il nostro leader, la nostra stella per il meno cinque. Forza, ragazzi! Taglia, bicchierone, gli vai a dare una mano, se no lo lasci da solo. Questo tira qualsiasi cosa, eh? Vai, Jalen! Vai, Jalen! Senza paura! Eh! S'aspetta l'uscita dai blocchi di Devin Booker, poi bicchierone non gliela dà, non c'è capito bene perché, penso che tirerà lui da tre a questo punto. Eccoci, beh, grande idea. Vedi, vedi, vedi uno un pochino più grosso contro di lui. Tira gli Hobby White da metà campo! Non va, ragazzi, 23 a 18. Quando loro hanno rimesso i titolari e si è fatto un po' tutto buio, però non siamo ancora morti. Si sta reggendo botta al rimbalzo, il che mi fa ben sperare, nonostante l'assenza di Gasol. Vedi che gli altri sono un pochino più aggressivi. Il problema è che si è preso sei stoppate. Diverse delle quali l'ha presa il povero Hobby White. Buona la difesa di Jelen Brown. Dai, ragazzi, dai! Vedi che Jelen Brown piano piano sta salendo di colpi. Questo è il giocatore che dovresti essere sempre. Voleva portare via me Fiondu. Bisogna tirare, bisogna tirare. C'era anche fallo, netto. No, ma fallo di chi? Ma di Danny Green. Ma non c'era neanche lì. Ma dai, ragazzi. E però Mirotic è un pochino più sveglio, un pochino più visbo. Eh, eh, vedi Nicola Mirotic? Hai visto come gli allarga il campo Nicola Mirotic? Ha recuperato Josh Jackson. Quelli che non si aspettavano. Vai, Hobby White. Vai, dagliela Danny Green. Forza, Mirotic. C'hai un mismatch? Vai, vai così. Deciso. Sicuro. Per il meno due. Guarda, guarda Bojan. Da buon vendicatore gli ha rubato palla. Forza, ragazzi. Che il momento psicologico è quello giusto. White da tre. Non la vede neanche. Mi è partito il microfono, ragazzi. Mi è partito il microfono. Va bene, va bene. Non ci possano più far niente. Siamo in un momento di transagonistica. A più uno. Vai, Jackson. Vai, è la tua. Solo verde. Altri tre punti. Più quattro. Non ci capiscono più niente. Non sanno più come fa. Ora rimettano i titolari. E sicuramente si chiapa tipo 20-0 di parziale. Ma se tanto tanto dovesse succedere che in qualche modo si porta a casa ma a noi proprio Tex ci fa un baffo. Vai, Devin Booker. Questo è il tuo momento. Ti ha bisogno di consolidare questo vantaggio. C'hai 10 secondi per il quarto di campo. Nicola Mirotic si è fatto stoppare. Ti hanno fatto un naso. Tupai Gargamella. Lo rifiglia da dietro. Va bene, va bene. Nemmeno un canestro facile bisogna lasciargli. Eh, qui si è fatto seppareva Shaq. Con una mano sola ci ha portati dentro tutti. Sono tornati lì, siamo a pari. Eh, eh, era buono. Il rimbalzo di Bim Boom Bam. Beh, per poco non ci fa canestro e fallo. Però è più difficile Anthony Town con Bim Boom Bam rispetto a contro Margasol che stava lì a fare i fondamentali. Eh, bra, buoni i fondamentali. Però se sei Novitski se no ci serve uno che lotta un pochino di più. Stai lì, stai lì, stai lì. Non lo fa tirare. Forza, mancano 6 secondi. Ragazzi, se è difeso troppo bene non ci possano fa canestro. Jelen Brown di fisico. Gliela tocca, gliela ritocca. La piglia bicchierone. Palla nostra. Vai così. Vai così che non ti tengano. Bojan Bogdanovic. Il vendicatore per i più 4. Eh, ma con questo è un po' una gomitata, eh, ragazzi. Ma è qualcuno che ci fischia un fallo in attacco? Dov'è l'elmetto quando serve? Vai Booker, è la tua. Sulla sirena. Ehm, Booker c'era per... Aveva, c'ha fatto 3 punti. Se era preso il rimbalzo non ci hanno dato niente di niente. Comunque siamo avanti. Io non lo so come è possibile. Al solito l'assist della partita. Terzo quarto, perché poi nel quarto quarto si tira e basta. Però almeno che stavolta è un assist. Forza di fisico, badalo lì. Dipsy, due e canestro di Devin Booker. Bojan c'è 4 secondi, devi tira a te. No, ma metterà a codesto il bicchierone. Oh, niente. Bojan se te la danno sempre a 3 secondi è perché vogliano che tu tiri da 3, capito? Va bene uguale, anche da 2. Però devi tira a te. Eh, questo è da campione. Questo non c'è da dirgli niente. Dai che sei alto e grosso. Ma sarà fallo ragazzi? Ma gli ha tirato un'ancata. Perché a questo non gli viene fischiato niente? Non gliela dare al bicchierone che già è messo male, ha i suoi problemi, lascialo fa. Vai Booker contro Westbrook. Di fisico che non ti vede mai. Questa marcatura Booker su Westbrook non mi pare una grande idea. Per niente proprio. Una visione di... No, ci siamo mangiati due punti belli e fatti. Ragazzi, gli si sono accesi i piedi a quello. Attenzione. Chi c'è al momento su di lui? Non si vede neanche. Bicchierone prova a dargli noia, però ci lascia lì il rimbalzo. No, ragazzi, no. Ci fanno due punti perché questo... Gli si sono accesi i piedi! E' arrivato chi era? Era Jackson o Benfiondo? Va bene uguale! Forza il contropiede! Vai per il bicchierone! Siamo vivi a meno due! Eh, ma non va affatto tirare, però. Perché ci sta... Ci sta uccidendo questo da solo. No questo, quest'altro. Questo lì. Vedi, qui è lì che gli dice. Allora, te ti scansi, io tiro. No, no, te scansati di più che così io tiro meglio. Jelen, devi inventare qualcosa. È qualcosa di meglio, però. Vabbè, vabbè. Io è bene che non mi esprima su questo fischio contro il povero bicchierone. È forte abbastanza, avviso, Westbrook. Non c'è bisogno anche di suselarlo così. Non c'è proprio bisogno. Anche perché poi tanto ci pensa Rashid. Bisogna accelerare un attimo questo attacco perché manca poco. Bisogna inventarsi qualche cosa. Jelen Brown. Va bene anche da tre. Tanto che ci sa da perdere. Ecco, magari senza palleggiarsi sui piedi, però. Eh, niente. Ce l'hanno chiusa qui, ragazzi. Vedi, Jelen Brown, che quando ti ci metti qualcosa sapresti anche fare. Westbrook, ragazzi. Se ti può dare noia in qualche modo, se faceva due su due, loro arrivavano a 50. Ha sbagliato il primo. Vediamo di tirare velocemente e fargli fare... Tira, Jelen Brown. Ma cosa si sta aspettando? Forza, ragazzi. Va bene, va bene. Tanto che è. Dai, bel fallo. Un bel fallo sistematico. Manca 7 secondi. Se no, questi non tirano. Buono. Buono così. A questo punto bisogna attaccarsi a tutto. Per forza. Speriamo che faccia almeno 1 su 2. O via. Almeno 10 estrazioni si sono guadagnate. Io, che vi devo dire? Secondo me siamo andati molto meglio rispetto alle ultime volte. Però la differenza ancora è netta. Cioè, non è che si può fare i miracoli. Che vuoi? Loro hanno tirato il 71% da 3. Questo ci ha dato una bella botta. Serretto ai rimbalzi. Dalla fanchina si è avuto tanto. E vedi a tenerci Devin Booker e quelli un pochino più... Però l'ha vinta Westbrook praticamente da solo quando ha deciso. Bicchierone ha preso 8 rimbalzi contro Anthony Towns. Poi... Ma comunque anche Bogdanovich, Jackson e Brown non hanno giocato male. Secondo me... E' gente che il suo lo può dire. Dico... Ah, questo è in doppia-doppia fissa. Però stavolta ha fatto più fatica rispetto alle ultime. Devo dire. Nonostante le 5 stoppate. Però i numeri questo li porta a casa sempre. Il fatto è che questo è in doppia-doppia. Quest'altro 17 punti e... Il discorso sta qui. E allora portiamo a casa la quarta sconfitta consecutiva. Stavolta però a loro vale soltanto, tra molte virgolette, 19 punti perché già erano in vantaggio in classifica. 110 a 149. Miglior realizzatore Russell Westbrook per la prima volta per il momento in stagione. Nei rimbalzi Carla Anthony Towns che è anche nei recuperi e nelle stoppate. Tra l'altro dopo aver fatto segnare il record dei rimbalzi settimana scorsa stavolta pianta lì il record delle stoppate. Negli assist Drew Holiday Tatum e Kobe White. Nei recuperi ci abbiamo anche Bogdanovich e questa invece è la classifica aggiornata per la lotta all'NVP con Carla Anthony Towns che sta ovviamente scalando posizioni. Detto questo la cosa buona è che loro hanno superato soglia 50 quindi per loro 4 estrazioni derivanti dai nostri 43 punti mentre per noi che abbiamo perso i 5 diventano 10 estrazioni. E speriamo bene perché o si pesca qualcuno buono o se no qui è la fine. Non è proprio tremendissimo. anche questo me lo gioco volentieri da pensarci da pensarci da pensarci oh attenzione è un po' un doppione di Barrett però però mi intriga mi intriga no Derrick Rose ragazzi Derrick Rose attenzione Derrick Rose eh manca Milano t'hanno tenuto signori come nelle favole rivedremo Derrick Rose in maglia Chicago Bulls e chissà che non possa essere davvero lui l'uomo della svolta per la nostra stagione perché ci abbiamo un bisogno che non ve lo immaginate nemmeno ora ci sono diverse decisioni da prendere io mi sono fatto un po' un quadro e voglio coinvolgere voi in maniera piuttosto attiva e importante prima di tutto nel ruolo di playmaker non ci abbiamo nessun silver quindi possiamo introdurre tranquillamente Derrick Rose senza nessunissimo problema e poi l'altra cosa che volevo fare era assolutissimamente tenere Andrew Wiggins lo sposto un attimo di qua così che mi abbasso questi altri due eccolo qui Andrew Wiggins lui ce lo teniamo invece per tutto il resto andiamo ruolo per ruolo nel ruolo di alla grande io credo che vi aprirò un bel ballottaggio tra Morris e Mirotic perché me fiondo non si tocca per il ruolo di alla piccola mi sento di eliminare di scartare sinceramente Josh Jackson e vi aprirò però un ballottaggio tra questi due Barrett e Gerald Green per il ruolo di guardia io ho visto dei segnali incoraggianti da parte di Jalen Brown e quindi gli voglio dare fiducia il ballottaggio ve l'apro tra questi due Green e Bradley per il ruolo di playmaker la situazione è un po' diversa perché io sinceramente non ho le idee chiare quindi questi due me li sposto al ballottaggio e ci lascio anche Van Vlitt perché forse l'avevamo già avuto ma l'abbiamo provato un po' poco questa è la situazione mi raccomando qui c'è lo snodo cruciale di quello che dovete fare perché si può votare per salvare uno tra Mirotic e Morris uno tra Barrett e Green e uno tra Danny Green e Avery Bradley in questi tre casi quello che votate è quello che volete in squadra quindi quello che volete salvare invece per quel che riguarda il playmaker siccome ce ne abbiamo due di bronze che possiamo tenere la situazione è questa un silver e per il momento nessun bronze quindi ci possiamo tenere due bronze qui dovete votare quello che volete eliminare tra questi tre White Van Vlitt e Shredder nei primi tre casi votare quello che volete tenere qui quello che volete eliminare io muoio dalla voglia di vedere questa nuova squadra con Derrick Rose di nuovo a Chicago e con Wiggins probabilmente ridaremo qualche minuto anche a Mar Gasol perché abbiamo visto che comunque Allen se la cava meglio di Gasol però c'è bisogno anche di Gasol magari lo facciamo entrare dalla panchina non lo so qualcosa ci inventiamo però per tutto questo ci sarà da aspettare ancora una settimana il campionato è entrato nel vivo vi ricordo che la prossima sarà la ventesima giornata quindi dopo la prossima ci sarà l'All-Star Game i cambi di matrice e qualche altro piccolo aggiustamento che poi dobbiamo andare a fare per ottimizzare al meglio il campionato saremo alla metà precisa della stagione che si compone di 40 giornate e niente ci vediamo domani in live e giovedì col Quasi Gaming su NBA 2K e giovedì e giovedì